una prova era trovare il nord c'era un foglio una rosa ai venti era graduata e ognuno doveva dire dove era il nord del sud con i gradi dati dalla scala graduata e chi si avvicinava di più vinceva e ha vinto manuel senso dell'orientamento innato dopo c'era la scalata ovest era più ripida c'era meno appigli e in cima bisognava rampicarsi a delle radici e dei punti dove non mi davano molto sicurezza infatti io in cima ho sentito un po' di brividi ho fatto complimenti alla città dell'ozina perché è stata veramente brava grazie a tutti a a a a a Addirittura l'ho pubblicata su Facebook io. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a questo ho preso 10 punti! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!